Grazie per questo invito, grazie a voi che siete rimasti in sala. È un'occasione sicuramente ghiotta. Io sono del Federico II e sto qua un pochettino perché dirigo un centro interdipartimentale insieme al CNR, l'Università di Napoli, in cui il consumo di suolo è uno dei nostri argomenti di ricerca. Io sono un pedologo, cioè rientro in quella categoria di persone che per lavoro studi il terreno, cioè scaviamo delle buche, studiamo la stratigrafia, ci sporchiamo le mani, campioniamo, studiamo proprietà chimiche, fisiche e biologiche per decidere cosa fare in questi suoli rispetto a tematiche sia legate a agricoltura a foresti, sia a tematiche ambientali. Quindi io ci tengo in questa prima diapo, visto che stiamo parlando di consumo di suolo, e diciamo ispirandomi anche agli studi di De Rosa, perché ricordo che ha fatto i corsi di pedologia, che cosa è sto benedetto suolo, no? E quindi noi qua stiamo parlando dell'impatto sulla progettazione urbanistica, però molto spesso nel mondo anche dell'architettura si considera la bidimensionalità, in realtà è molto di più di ciò che vediamo in superficie, a uno spessore e a una complessa architettura interna, ha fatto sostanza organica, sostanze minerali. Ora il tema molto importante è che ci vuole tanto per fare un suolo. Vedete alcuni migliaia di anni per generare solo qualche decina di centimetri di suolo. Ed è la risorsa, ci vuole tantissimo, per cui il Parlamento europeo la definisce una risorsa non rinnovabile, eppure è la risorsa in assoluto meno tutelata. Cioè ciò che voglio dire è che basta nell'agro romano, dove noi abbiamo suoli che si sono formati in centinaia di migliaia di anni, diciamo basta una ruspa per cancellare di colpo tutto questo, no? Allora tu proprietario terriero, tu che hai la proprietà di un suolo, tu in realtà non è che hai la proprietà solo di qualcosa che hai costruito tu, ma tu erediti centinaia di migliaia, nel caso dell'agro romano, di alcune zone ovviamente, tu erediti una storia in cui i fattori naturali, la pioggia, gli organismi viventi, alterazioni di minerali e tante cose, ti hanno donato questo bene, no? E quindi è chiaro che qualcosa non funziona, cioè che io proprietario di quel pezzo di terra ne rispondo perché è anche la consegna, l'opportunità, il modo in cui lo gestisco determina l'opportunità che io offro alle generazioni future, no? E quindi ovviamente con questa filosofia che è la realtà fisica, cioè non è che c'è molto da ragionare, questa è la realtà, i numeri di Michele Munafò, tre metri quadri al secondo, sono numeri che evidenziano, no? Limitandosi anche solamente al contesto di Roma, diciamo la grande problematica. Io vorrei farvi vedere alcuni, perché diciamo parliamo di consapevolezza e allora vediamoli qualcuno di questi suoli dell'agro romano di cui stiamo parlando, vedete qui in arancione sono i suoli che sono fondamentalmente figli del mondo vulcanico, poi vedete la fascia gialla costiera, i fondi valli verdi, questo diciamo è stato un lavoro di Antonio Arnoldus qualche anno fa di carta dei suoli del comune di Roma e vediamo alcuni di questi paesaggi delle colline vulcaniche, dove c'è ancora la viticoltura, insomma abbiamo, ereditiamo in questo paesaggio, no? Il paesaggio della fascia costiera è recente, tutta una serie di situazioni che fanno sì che ci siano dei suoli particolarmente diversificati, no? Qui grazie al lavoro che Rosario Napoli e Massimo Palanti stanno portando avanti, diciamo vediamo questa biodiversità dei suoli, ovviamente di ciò che è rimasto e di ciò che abbiamo bisogno di tutelare, vedete questo bellissimo suolo delle dune antiche, no? Dove troviamo probabilmente un suolo sepolto, altro materiale che è arrivato, cioè il nostro problema è che questa bellezza, perché tale è, e voglio far vedere quest'altro, un suolo nella superficie della cooperativa Nuova Agricoltura a Decima Malafede, abbiamo un suolo, vedete questi orizzonti più scuri in superficie, questi più profondi, e qua troviamo queste zone più scure che sono dinamiche di manganese o il movimento d'argilla. Cosa voglio dire? Che di nuovo ci è voluto tantissimo, centinaia e migliaia di anni a creare questo patrimonio. Il problema è che noi se non costruiamo una consapevolezza nel cittadino, oggi più volte ho parlato di cittadino, ma chi glielo dice al cittadino l'importanza di questo potenziale che abbiamo sotto i nostri piedi, cioè non c'è legge che tenga se non cambiamo la consapevolezza. È là che sbagliamo, cioè ci parleremo sempre addosso in pochi addetti ai lavori. Allora in questo senso vorrei, al di là della conoscenza, con questa immagine, io voglio dare due messaggi. Uno, diciamo, vabbè, più banale, tecnico, no? Cioè io ci terrei a vedere, qua mi rivolgo a Munafo e al gruppo dei collaboratori, vedere più suolo, più questa conoscenza dei suoli dettagli all'interno del calcolo di quei servizi ecosistemici, ma questo è un messaggio più scientifico, visto che io vengo dal mondo della ricerca, e quindi dobbiamo assolutamente migliorare perché le azioni sono sempre locali. E poi voglio dire a tutti la necessità di far parlare questi suoli e vi voglio mostrare, perché diciamo, voglio mostrarvi un piccolo esempio del museo di Pertosa. Noi in un anno abbiamo costruito un museo a Pertosa, che è un piccolo comune salernitano, in una località remota, facendo questi che vedete, sono dei monoliti di suolo, cioè sono delle fettine di suolo che abbiamo impregnato con delle rese e si vengono là. È un museo che pur stando in una località remota in un solo anno ha raggiunto 16.000 visitatori grazie anche alle scuole. Una realtà che vi invito a vedere perché è un museo molto bello e c'è stato un anno di lavoro, non sono cose impossibili. Allora cambiate, cioè difendere il suolo non è solo la legge, certo sono strumenti urbanistici, tutto questo insieme, ma in questa visione sistemica cambiamo qualcosa sul lato della consapevolezza. Se già a partire dalle scuole non impattiamo, non facciamo capire la grandezza, nel caso specifico di questi suoli, è l'agro romano in cui i minerali si alternano, producono fertilità, le stesse radici della civilizzazione qua è tutta collegata ai suoli, alla capacità di ritenere acqua anche durante la stagione estiva. C'è tantissimo dietro a questi suoli da raccontare, se no perdiamo qualunque battaglia. Grazie.